Senti, ma qui in Africa qual è l'animale più cattivo, il più pericoloso e il più temibile? È il leone, il coccodrillo, non lo so, la tigre? No, no, in Africa l'animale più cattivo è l'uomo. Ma intendi tipo l'africano, l'uomo africano? No, l'uomo in generale, ok. E invece la donna? No, 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 no. Senti, ma è più pericoloso se io qua incontro due signori o un coccodrillo? Un coccodrillo. Un coccodrillo.